Altra sconfitta in casa del Milan e perde altri tre punti preziosi di nuovo dopo la Sampdoria anche con l'Atalanta che espugna San Siro grazie al gol di Cigarini al 64esimo ed è un primo tempo in cui l'Atalanta ha dominato il Milan. Il Milan che si sveglia solo un po' nel finale con Boateng con l'entrata di Bojan e va vicino al gol ma non riesce a raggiungere il pareggio. La situazione del Milan si mette veramente male e come tuttavia si prevedeva già dalla campagna acquisti il campionato è di vero e lungo, la Champions c'è proprio tra qualche giorno tuttavia perdere già sei punti su sei in casa è una situazione veramente drammatica per il Milan nelle prime due partite in casa due sconfitte ad opera prima della Sampdoria ed ora di nuovo consecutivamente, sempre riferendosi in casa, contro l'Atalanta. Questo è quanto e c'è tanto da rivedere per all'Italia.